Da oggi, venerdì 15 novembre, ritorna in vigore l'obbligo di catene a bordo o di gomme invernali da montare sulle autovetture e da utilizzare su alcuni tratti delle strade statali e autostradali della Campania, maggiormente sposte a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. Tra questi ovviamente anche la provincia di Avellino, un obbligo al quale attenersi scrupolosamente sia per la nostra sicurezza che per evitare sanzioni salatissime previste dal codice della strada. Per la mancanza di pneumatici invernali e l'assenza delle catene a bordo, l'infrazione combinata varia in funzione della strada su cui viene contestata. In contesto urbano si parte da 41 euro, fuori dai centri urbani da 84 euro. In autostrada invece si parte da 80 euro, fino a un massimo di 318, da decurtazione di tre punti della patente. Obbligo di catene a bordo anche per quanto riguarda il tratto sull'autostrada 16 gestito da autostrade per l'Italia da Baiano a Candela. Tra le statali interessate, quella per Sant'Angelo dei Lombardi, del Formicoso, delle Puglie, Terra di Lavoro e la strada statale Sette Appia che porta a Chiusano San Domenico.